Buonasera, grazie a tutti per essere qui questa sera insieme. Tanti auguri a voi e alla vostra comunità per il Patrono. Da noi San Nicola fu a dicembre, invece a Borgio, dove abbiamo, è appena passato, perché era San Gervasio, Santi Gervasio-Cortasio, di centone di questo mese. Grazie, vogliamo ringraziare la vostra comunità, Nicola, che abbiamo conosciuto un anno fa a Bienno, nel borgo di Bienno, quando abbiamo cantato, e nel rimpresco successivo al concerto abbiamo conosciuto lui con alcuni suoi amici del coro Baitone di Edolo e abbiamo cantato per la Bienno Moretta insieme. Da lì poi si è sviluppata l'amicizia, ci siamo risentiti a pochi mesi fa e mi diceva, sarebbe bello fare questa cosa, nel mio paese c'è la festa patronale e mi piacerebbe che voi veniate a cantare. Quindi noi siamo veramente felici di essere qui questa sera e di portare un po' la nostra gioia. Noi siamo un gruppo che è attivo dal 2008. L'Ioche significa le voci nel vialetto di Val Furba perché nasce proprio nel paesino di San Nicolò, Val Furba, Santa Caterina e Val Furba, che è nei paesi d'intorno. Santa Caterina i primi concerti. E poi con il passare degli anni, fino al 2023, ormai a luglio, sono 15 anni. 15 anni. Nel nostro compleanno è simbolicamente il 28 luglio, quando il gruppo si è formato la prima volta. Eravamo solo ragazzi, solo uomini. E come vedete, questa sera siamo 50%, quindi metà donne, metà uomini. Quindi il potere femminile degli anni si è insinuato. Sperando che non riesca a diventare la maggioranza della metà uomini. È già successo. Facciamo fatica a contenere le nostre ragazze. Le nostre ragazze, ve le presento subito, Beatrice, Marzia, Sara e Chiara. E allora presentiamo le ragazze, lo capiamo, Christian e Marco. Grazie. Grazie.